E chi ha detto che l'inverno se n'è andato? Dopo le temperature quasi estive dello scorso fine settimana, in meno di 24 ore il triangolo lariano e tutto il lario è piombato con la colonnina di mercurio vicina allo zero. Complice l'aria fredda proveniente dal nord Europa che all'estero sta mettendo in ginocchio molte nazioni con nevicate abbondanti anche a quota bassa. Così anche in Valassina e nell'alto lario, questo pomeriggio le gocce di pioggia si sono man mano tramutate in fiocchi di neve che sono caduti copiosi per circa un'ora. Le immagini che stiamo vedendo sono state registrate questo pomeriggio da Daniele Ghiglioni e mostrano Rezzago e Sormano sotto una fitta nevicata mista a raffiche di vento, un bel pesce d'aprile che ha fatto rispolverare dagli armadi giacche, cappotti e ombrelli. La perturbazione temporalesca ha però cessato la sua attività verso le 17.30 quando un timido sole ha portato un sospiro di sollievo soprattutto per gli automobilisti. Ma la tregua sarà temporanea, le previsioni parlano di un peggioramento nel weekend, mentre per aspettare le temperature primaverili bisognerà attendere la metà della prossima settimana.